Gabbie per l'allevamento del pesce in mare aperto davanti alla costa di Torre Suda. Siamo vicino a Gallipoli e qui, come altrove, i cormorani di animali protetti si stanno trasformando in una seria minaccia economica. Nell'arco di due anni, che sono i due anni nel quale alleviamo, noi perdiamo circa 500.000 pesci. È un danno veramente enorme. Questo è un allevamento in mare aperto e alleviamo spigole, orate e ombrine in biologico. Noi in mare, praticamente per ogni gabbia dove alleviamo il pesce, ricopriamo con una rete antivolatile per evitare che i cormorani, i gabbiani entrino. Però durante le mareggiate questi riescono ad entrare perché magari si strappa, si apre la rete e loro regolarmente pescano. Avete mai trovato i cormorani con le mani nel sacco? Beh, addirittura una volta, mentre noi pescavamo, il sommozzatore si è trovato a fianco del cormorano che pescava perfatti solo catturando le orate. Concorrenza diretta? Sì, concorrenza molto diretta. L'innalzamento delle temperature medie dell'acqua di mare, altro effetto della crisi climatica dovuta al consumo di petrolio, carbone o metano, ha, secondo la Col di Retti, reso i cormorani stanziali in Puglia. Si stima che un cormorano adulto possa mangiare fino a 10 kg di pesce al mese ed è anche un ottimo nuotatore. Quindi da oggi non sono solo più i gatti a minacciare il lavoro dei pescatori.